Il Convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie è il più prestigioso complesso di architettura e decorazione del Quattrocento a Milano. Si riconoscono due diverse fasi di costruzione. La parte anteriore della chiesa venne retta su progetto di Guini Forte Solari a partire dal 1466 e risente ancora di una forte eredità gotica. Presenta infatti una facciata molto bassa a capanna, mentre l'interno è suddiviso in tre navate con una serie di cappelle laterali quadrate e la copertura avvolte a crociera con costoloni. Intorno al 1490 Ludovico il Moro diede disposizioni per il rinnovamento della chiesa, che cominciò con la costruzione del portale, nella cui lunetta c'era una pittura murale di Leonardo, oggi andata perduta. I lavori furono affidati al Bramante, che proseguì con la realizzazione della nuova tribuna, per la quale venne scelta un'impostazione planimetrica a pianta centrale. Per il modello si era ispirato agli edifici romani, che tanto fascino esercitavano sugli architetti del Rinascimento, i quali ne traevano spunti simbolici e significati ideologici e morali. Al vano della cupola segue un ambiente contiguo. Questo schema è chiaramente desunto dalla Sagrestia Vecchia e dalla Cappella Pazzi del Brunelleschi a Firenze, impostate sulla successione di due quadrati. Aderente invece alla tradizione lombarda fu la soluzione scelta per l'esterno, con una galleria di archi che ne fascia il volume. Alla tribuna si accede attraverso una corta e larga scala. I grandi arconi sorreggono il tamburo della cupola, ornato come i pennacchi di graffiti. Altri graffiti decorano la volta dell'abside e le pareti sopra il coro intarsiato. Il miglior punto d'osservazione della tribuna è il chiostrino, altra creazione del Bramante. La Sagrestia Vecchia è poi una grande sala psidata, lungo le cui pareti corrono balconi lignei dipinti e il cui soffitto è decorato da un motivo di gusto leonardesco. Invece le lunette affrescate a monocromo dei portali verso la chiesa e della Sagrestia sono opere del Bramantino. Dal piccolo edificio accanto alla facciata della chiesa si accede all'antico refettorio del convento, pure questo oggetto dell'opera di ampliamento voluta da Ludovico e affidata al Bramante. Il duca incaricò poi Leonardo di eseguire sulla parete di fondo del refettorio un affresco che avesse per tema l'ultima cena. Il grande artista cominciò l'opera nel 1494 e la portò a termine nel 1498. Oggi il complesso di Santa Maria delle Grazie, anche in virtù del Cenacolo che custodisce, è fra i monumenti riconosciuti e protetti dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità.